Comincia la stagione delle sagre, dopo la parrocchia di San Francesco di cui vediamo le immagini, è la volta di Rolo che si presenta con un calendario di appuntamenti in onore dei patroni San Zenone e Santa Vincenza. Quest'anno la sagra si intreccia con il quarantesimo anniversario del gruppo scout Rolo 1, momento culminante domenica 20 giugno con la celebrazione solenne, la processione e il pranzo comunitario. In serata il musical Noi ce la faremo a cura degli studenti della scuola media. Si prosegue il 24 giugno con la seconda edizione di Cibenin Festa, momento di ritrovo offerto dalla parrocchia di Sant'Agata di Carpia inizio estate. Numerose sono le serate musicali e i tornei per una festa aperta a tutti.